Una due giorni dedicata al mondo fantastico del gioco. Questo è Faenza Ludens, arrivato alla settima edizione, che nel weekend animerà la cittadinanza faintina di ogni età. Faenza Ludens 2019 è il primo ed unico festival del gioco che esiste in Romagna. È organizzato dalle associazioni del territorio e consiste in una due giorni di giochi da tavolo, mattoncini Lego, sport, scherma e arte dal vivo, che si svolgerà a Palazzo delle Esposizioni il 28 e il 29 settembre di quest'anno. Quello che potete trovare saranno mostre per grandi e piccini, giochi per tutti i gusti, tornei in cui potete divertirvi e provare a cimentarvi con noi e tanto altro. Il Comitato delle Odoteche Volontarie opta da anni per organizzare una manifestazione come Faenza Ludens, in quanto il nostro principale obiettivo è quello di appassionare il prossimo alla cultura del gioco in totale gratuità, specialmente a quella cultura del gioco sano che si oppone con forza sia al gioco d'azzardo, sia al concetto che il gioco sia solamente per bambini. Il nostro obiettivo è dimostrare che il gioco è per tutti ed è un elemento di forte socializzazione.